Aprire subito al Ministero dell'Economia un tavolo di concertazione sulla grande vertenza call center dell'Aquila. A chiederlo è la deputata del Partito Democratico Stefania Pezzopane, alla luce di una forte crisi che si sta battendo sul comparto che all'Aquila dà lavoro a migliaia di persone. In provincia dell'Aquila ci sono numerosissimi operatori che lavorano all'interno dei call center, sono circa 2.000, bene 800 di questi 2.000 sono in questo momento interessati da situazioni di crisi aziendali o di trasferimento di commesse che mettono in discussione lo stesso posto di lavoro. Ecco perché è urgentissimo, ribadisco la richiesta, che ci sia un tavolo al Mise con il Ministro Di Maio per affrontare queste due questioni. La prima riguarda il call center Trascom con il consorzio lavorabile che ha avuto un avvicendamento di commessa e l'Inps con gara ha affidato a Comdata. Bene, Comdata applicherà la clausola sociale e quindi prenderà tutti i lavoratori e le lavoratrici. Questa è la battaglia da vincere. Immediatamente devono prendere impegno per riassumere tutto il personale alle condizioni di lavoro che questi avevano. E poi c'è la questione molto delicata della Holy System, ExiCare, che è un'azienda che sta all'interno di Altea, una grande holding di 17.000 persone, il cui presidente è stato recentemente arrestato per vicende di Bancarotta, Flaudorenta ed altro ancora. E queste persone temono che ci siano ovviamente delle ripercussioni, e francamente lo temo anch'io, quindi urgente il tavolo al Mise per seguire il cambio di commessa, il cambio aziendale e la clausola sociale. Dall'altra garantire ai lavoratori di Holy System di proseguire le commesse e di essere ovviamente retribuiti.